Benvenuti a un minuto di storia con Mario. Oggi parliamo del Partito Repubblicano, il Partito Repubblicano americano, il Grand All Party, che tenne la sua prima convention il 17 giugno del 1856 a Filadelfia per indicare il suo candidato alla presidenza. Fu John Fremont il primo candidato alla presidenza americana indicata dal Partito Repubblicano. Poi perse le elezioni contro il democratico James Buchanan, ma nella tornata successiva del 1860 il candidato del Partito Repubblicano fu un certo Abraham Lincoln che vinse le elezioni e da allora il Grand All Party viene ricordato come il partito di Lincoln. Piccola curiosità, il colore del partito è il rosso e gli iscritti sono 36 milioni, il più grande partito del mondo.